salve amici e amiche e questa è una rappresentazione della parata di esbolla questa mattina giuro alle volte proprio non capisco la sottile ironia del web ma comunque per restare sempre sul tema delle palle e delle sorprese questa è la dichiarazione del sindaco di toropez in russia questa mattina a seguito dell'attacco dronico ucraino ha detto ma stessuali parole tutti i droni nemici sono stati abbattuti però però purtroppo si è sviluppato un piccolo incendio e per questo bisogna evacuare la città già un piccolo incendio sì che fra l'altro mentre parla si sente anche che continua a bruciacchiare nello sfondo se fate caso e si succede che devi evacuare una città per un piccolo incendio no così piccolo che si vedeva anche dallo spazio questa mattina guardate un po nessuno sa di preciso quante tonnellate di esplosivo munizioni missili s 400 ds 300 iskander fossero all'interno del deposito ma posso dire senza che si offenda nessuno che dei botti così non si vedevano da quando il napoli ha vinto lo scudetto nel 1987 e quindi oggi apriamo così con questo successo strepitoso e strategico da parte dei droni ucraini che hanno mandato in fumo la santa barbara russa per definizione un deposito operativo che è stato costruito negli anni 60 nell'era sovietica e poi modernizzato a partire dal 2015 con una stima di quasi 30.000 tonnellate di ordigni andati in fumo questo deposito relativamente moderno da come si vede dal satellite aveva comunque delle disposizioni sicure di conseguenza i danni di un piccolo drone hanno certamente innescato una reazione a catena che ha portato a questi effetti pirotecnici che fra l'altro incrocio le dita spero che youtube mi permetterà di farveli vedere le immagini in questo video mostrano anche l'onda d'urto attorno all'esplosione principale e poi altre esplosioni in tutto il perimetro e si vedono poi fra l'altro i tipici missili innescarsi e partire in più direzioni insomma è lo scenario tipico di un deposito di munizioni che salta per aria ma su una scala enorme senza esagerazioni penso che sia il più grande deposito che salta in aria mai registrato in un video nella storia umana bene ora passiamo invece alle notizie dal fronte non ci sono grandi cambiamenti da segnalare se non nella regione di kursk dove il terzo giorno di iniziativa russa si è decisamente infilato in una sacca di resistenza ucraina che sta velocemente accerchiando le posizioni russe ma perché sta succedendo questo è possibile che i russi si stiano infilando volontariamente in una trappola a questa domanda ho trovato la risposta sul canale nexta tv in questo breve video con le dichiarazioni del responsabile del centro e contro informazione presso il consiglio di sicurezza nazionale ucraino e lui pone interessanti analisi dei fatti proprio di questi giorni dice che le prospettive russe nella regione di kursk non sono affatto buone stanno cercando di avanzare ma vengono colpiti alle spalle e finiscono così nella trappola gli è stato chiesto perché le cose stanno cambiando così velocemente perché la guerra in questa regione procede in modo diverso rispetto alle altre parti del fronte il terreno è diverso è molto più boscoso l'aviazione ucraina può intervenire e infatti si sta facendo un grosso uso di questa oltre all'uso massiccio dei droni secondo kovalenko per l'esercito russo quindi è molto difficile combattere in queste condizioni stanno continuando ad applicare l'approccio tipico frontale con l'uso di mezzi corazzati e blindati che cadono sistematicamente nelle imboscate delle forze ucraine che invece tendono a operare in piccoli gruppi in azioni di guerriglia fortunatamente per l'ucraina dice il responsabile il responsabile di questa operazione russa nella regione di kursk è la guardia personale di putin alexei dummin che appunto come dice questo analista fortunatamente per l'ucraina non ha nessuna esperienza militare andiamo avanti oggi vi porto questo video se vi interessa vi passo il link in descrizione perché è strepitoso ma dura 15 minuti quindi tendo a saltare alcune parti la storia è questa un soldato ucraino si è infiltrato oltre la linea nemica facendosi passare per un soldato russo in questi 15 minuti parla con diversi soldati russi e riesce a farsi dare anche informazioni non vi spoiler al finale ma andiamo a vedere cosa succede comunque le affermazioni dei soldati russi sono molto interessanti perché come sempre ci offrono una diversa prospettiva che non è la solita che si vede da un drone che gli lancia addosso una granata dall'alto il primo soldato che l'ucraino incontra è completamente isolato dice che non vede gli altri da tempo che qualcuno è andato via per cercare il cibo e non è più tornato non hai la radio gli chiede no non ci hanno dato niente dice ne ho trovato una ma era scarica tutto questo succede mentre si nascondono fra gli alberi e si sentono i droni volare nelle vicinanze da quanto tempo sei qui gli chiede da quasi una settimana gli risponde ci hanno portato qui c'era il comandante non so chi sia io poi ho attraversato la palude e ho svoltato a sinistra vi hanno fatti scendere qui vicino e dove si qui vicino e poi ci hanno lasciato qui dice dopo un po i due camminano un po più in là e incontrano altri due soldati sono tutti disarmati e si nascondono fra gli alberi a questo punto il soldato ucraino chiede ma che state facendo qui perché siete disarmati volete essere presi dagli ucraini o cosa non lo so dice uno di questi ci hanno mandato qui e ci hanno detto di restare qui a questo punto il soldato ucraino che fa la parte del soldato russo responsabile cerca di enfatizzare l'incompetenza e l'improvvisazione dicendo che stanno lì solo per farsi fare fuori dagli ucraini e dice mentre l'altro dice ma io mi stavo solo nascondendo perché non so non sapevo chi eravate voi due che vi stavate avvicinando e a questo punto il soldato ucraino dice adesso hai capito chi siamo sì dice grazie al cielo ora ho capito molto bene vabbè a questo punto il soldato ucraino dice io me ne vado non sto qui con voi mentre quell'altro dice vabbè ma siamo qui tanto che cosa vuoi che possa succedere no dice il soldato ucraino non potete stare qui senza nessun motivo disarmati e riposare senza equipaggiamento poi capisco che siete nervosi anche io stavo per mandare tutto all'aria a questo punto uno dei soldati russi dice sì lo so ma io ero anche pronto a farla finita perché tu non ci hai avvisato che ti stavi avvicinando perché dovremmo avvisare ha risposto il soldato ucraino dovevo mostrarvi i documenti o non ti sei reso conto delle divise che indossiamo e loro non mi hanno visto arrivare dice e come avrebbero potuto dice l'ucraino se non avete nemmeno una radio perché siamo venuti qui direttamente dal centro di comando risponde a questo punto il soldato ucraino chiede informazioni ma avete almeno dei letti al centro di comando almeno sei letti perché non andiamo lì a cercare del cibo dice e il soldato risponde a quali sei letti risponde non sono più di tre e non avete cibo lì una stufa no niente risponde mentre tira fuori un paio di sneakers due snack ma comunque dicono di non avere né cibo né acqua in generale nel frattempo parlano a proposito dei droni mentre continuano a nascondersi l'ucraino a questo punto che continua a ripetere fa la parte del russo dice però lasciarci qui senza acqua né cibo è come stare in cattività e soldato russo dice no è vero non ci danno ordini non ci hanno dato neanche una bussola dice niente ieri abbiamo perso quattro persone tre dall'altro lato della strada abbiamo perso 300 persone da questa parte della strada 400 forse dicono che avete avuto un sacco di perdite qui dice l'infiltrato e che cosa dicono di restare qui per un mese per un mese e mezzo uno dice sono venuto in questa foresta e ho pensato non so cosa fare come stare qui non me ne frega niente ci hanno portato qui siamo qui ma non sappiamo chi e che cosa e perché e cosa sta succedendo come sempre non vi dicono niente non vi hanno dato niente ci dicono scava qui poi arrivano ci danno una radio e questo è tutto ci dicono questo è il tuo comandante e così è successo a 300 di noi prendi la radio faremo poi in futuro una rotazione e poi spariscono e stiamo qui non sappiamo cosa fare io sono un fuciliere dice ma detto francamente è la quinta volta che uso un'arma e non so cosa fare mentre parlano si sentono delle esplosioni in lontananza e poi altri droni volarli sopra la testa in tutto il video se ne sentono almeno cinque sei poi il suono di altri droni questa volta molto più vicino e altre esplosioni e alla fine del video arriva un altro soldato ed è un soldato ucraino così il nostro infiltrato si alza e dice bene adesso vorrei dirvi signori congratulazioni perché siete finiti nelle mani insanguinate degli ucraini stendetevi velocemente mani dietro la nuca e non vi preoccupate sarete vivi e trattati bene e questo è il video insomma di questa vicenda finita bene ed è un bene davvero perché più soldati russi gli ucraini catturano più possono scambiarne per prigionieri ucraini che stanno in russia che non se la passano altrettanto bene e con questo è tutto per oggi cari amici come sempre vi invito a iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto qui sotto al video oltre ai link in descrizione trovate anche i pulsanti per sostenermi un abbraccio alla prossima